Grazie a tutti. Io ero e mi disse Marco purtroppo Gilles è morto. Io piansi credo due giorni, non andai neanche a scuola e sapevano che ero talmente innamorato di Villeneuve che addirittura il martedì dopo mi fecero le condoglianze a me, che è una cosa incredibile. Era un'epoca diversa, nel senso mi ricordo mio padre che era una cabina due per due a Zeltev, a Zeltev per esempio tirata su e messa con i cavi e c'era il mitico Enrico Benzin che prendeva i tempi da fuori e le longine che ogni 20 minuti passava i tempi. E quindi erano epoche diverse, quindi secondo me la dedica di questo libro a mio padre e soprattutto questo libro su Villeneuve non sono altro che un tributo veramente molto importante e a lui fa piacere sicuramente perché lo sente. Grazie a voi, grazie di tutto.